Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Ecco le immagini e successo all'improvviso, questa è la dichiarazione del grande fratello VIP. Nel cuore della notte è successo quello che tutti abbiamo iniziato ad immaginare qualche giorno fa, solo un bacio o l'inizio di qualcosa di più, sto parlando ovviamente di queste effusioni scambiati nella notte tra Manuel e Lulu. I protagonisti di queste grandi emozioni sono Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. I due ragazzi sin da subito hanno mostrato di avere una certa complicità e come raccontato proprio dalla stessa principessa Lulu, qualche giorno fa è scattato un bacio a stampo sotto le coperte. Oggi però le immagini che il grande fratello ci mostra nella sua prima pagina mostra un bacio a tutti gli effetti nella notte, che ha già mandato in visi video i fan, ma ci sono anche i più scettici, per esempio come gli amici di Manuel Bortuzzo, che sulla loro presunta love story nella casa del grande fratello preferiscono non commentare. Manuel lo conosciamo tutti, è diventato noto al pubblico per la vicenda che lo ha tristemente coinvolto. Lo stesso Manuel infatti era una giovane promessa del nuoto e un giorno fu colpito da un colpo di pistola mentre si trovava all'esterno di una tabaccheria proprio nel centro di Roma e da lì la sua vita è cambiata. Lo stesso Manuel infatti ha raccontato la sua esperienza e di come vive oggi in questo modo e in queste condizioni. Manuel però ha rivelato il difficile percorso affrontato dopo la paralisi alle gambe provocata da questo colpo ricevuto, mentre Lulu, la conosciamo tutti, è in gara con le tre sorelle Jessica e Clarissa ed è una principessa etiope. Voi di questa presunta nuova coppia del grande fratello VIP cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti perché in tanti avete pensato che Lulu lo faccia solo per attirare visibilità. Voi esprimetemi il vostro commento, vi aspetto numerosi. Come sempre iscrivetevi al mio canale, lasciatemi il like e attivate la campanellina così non vi perderete questo ma nessun altro prossimo video. Siamo arrivati a 111.000 iscritti grazie di cuore da Angela da Tutto dal Web.